Ulissi ha faticato per arrivare ad Itaca dove c'erano i suoi affetti, tutto quello che era più importante per lui. Il paziente naviga su questa barca per raggiungere la sua Itaca che è la guarigione. Con queste parole Domenico Capucili, presidente della sezione interprovinciale Pescara Teramo dell'Ail ha salutato al porto turistico di Pescara l'arrivo di Sognando Itaca, la barca a vela dell'associazione contro le leucemie, linfomie e mieloma partita il 4 giugno scorso da Trieste con un equipaggio formato da skipper professionisti, pazienti, medici, infermieri e volontari. Dopo Venezia, Ravenna, Rimini, Pesaro e Ancona l'imbarcazione ha fatto tappa a Pescara dove si è svolto come in ogni porto di attracco l'Itaca Day, una giornata di sensibilizzazione per ribadire l'importanza della velaterapia come metodo utile per la riabilitazione psicologica ed il miglioramento della qualità della vita dei pazienti. Il progetto Itaca, nato dieci anni fa a Brescia da un'idea di un giovane amante della vela che purtroppo non ha vinto la sua battaglia contro la malattia, è diventato l'iniziativa centrale della giornata nazionale contro le leucemie, linfomie e mieloma che verrà celebrata il 21 giugno prossimo a livello nazionale. In occasione del decennale del progetto, la barca concluderà per la prima volta il suo viaggio proprio ad Itaca. È un'esperienza bellissima anche per chi come me ha navigato per un piccolo tratto, ha ribadito Cappuccilli, che è stato a bordo dell'imbarcazione da Ancona a Pescara. La solidarietà, quella vera, si leggeva negli occhi di tutti. All'incontro ha partecipato anche il dottor Paolo Di Bartolomeo, primario del Dipartimento di Ematologia dell'ospedale di Pescara, che ha sottolineato l'importante ruolo svolto dall'AIL nel campo della ricerca clinica.